Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Questa mattina mi sono svegliato cantinchiando e la canzone è una di quelle che io amo, forse per questo mi sono svegliato con questo motivetto, che fa così. È bello cantare anche se si è un po' sonati. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai, chiedo solo di restare accanto a te. Ecco questo io chiedo sempre al Signore. Io di mio non ho niente, perché tutto è tua grazia, tutto è tuo dono, tutto è frutto della tua misericordia. Accoglimi, Signore, vieni presto in mio aiuto, cammina con me. Stai sempre al mio fianco, prendimi per mano e se dovessi cadere, rialzami. Abbi misericordia, perché io non sono perfetto, sono ricco di miserie, sono pieno di mancanze, di peccati. Abbi misericordia di me. Parlate così a Gesù, con umiltà e amore. Certo, e dobbiamo però sforzarci sempre di essere migliori, di crescere in santità. Allora facciamo una cosa bella? Preghiamo insieme anche questa mattina, perché noi vogliamo affidare la nostra giornata e la nostra vita al Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti e vi aspetto per i nostri momenti di preghiera. Alle 15 la coroncina alla misericordia e alle 17 e 20 il rosario. Potete seguire in streaming dal sito www.donfrancescocristofaro.it. È molto più semplice. Ciao a tutti. Grazie a tutti.